L'asse Damiano Galdieri-Morano, un legame pericoloso tra politica e camorra scoperto e portato alla luce dalla DDA di Napoli che ha avviato le indagini nel periodo delle elezioni del rinnovo del Consiglio Comunale ad Avellino nel 2018. Agli atti nel faldone, nelle 880 pagine, sono riportati intercettazioni telefoniche, ambientali e video. Una di queste molto significativa, un passaggio in cui Damiano Genovese parla con il padre, il boss Amedeo recluso a Parma per un ergastolo da scontare. Damiano riferisce al padre di aver vinto alle amministrative. Ho vinto, stiamo al comune, dice. E il padre risponde, ma con i 5 stelle. Il figlio, andiamo insieme, però io sto con la Lega. Ah, meglio la Lega, sta più sopra, replica il padre. A me Di Maio non mi piaceva. Poi interviene lo zio, Antonio Genovese, che dice di aver lanciato parecchi politici sul campo, tra cui anche Sabino Morano, segretario provinciale della Lega, indagato in questa inchiesta e che ieri, in un'intervista rilasciata all'approfondimento punto di vista, ha chiarito. Di essere accomunato a questioni di interessi di piccolo capodaggio, non voglio dire nemmeno di fatti criminali, ma di interessi, di piaceri, pratiche amministrative, per me è veramente triste.